Cosa succederà nella terza puntata de Il Patriarca, in onda in prima serata su Canale 5 il 28 aprile 2023? Scopriamolo assieme. Nel nuovo episodio, Nemo Bandera dimostra di avere sempre più fiducia nei confronti di Malcolm e così si moltiplicano le responsabilità che gli affida. Questo comportamento, ovviamente, non fa che acuire la gelosia di Mario. Intanto, Elisa prende una decisione importante. Si candida a sindaco e si schiera pubblicamente contro la famiglia Bandera. Lara tira un sospiro di sollievo quando trova lavoro in fabbrica. Tuttavia, dura ben poco. Nonostante Nemo si opponga fermamente, infatti, Mario la fa chiudere a causa della crisi in cui versa la Deep Sea. Nemo, allora, prende una decisione avventata nel disperato tentativo di risollevare le sorti dell'azienda. Decide, infatti, di fare arrivare un altro carico di droga e giura a se stesso che stavolta sarà l'ultimo. Per non perdere le prossime anticipazioni iscriviti al canale.